ciao oggi vi faccio vedere come si può vedere rai 4k senza la parabola allora dal telecomando naturalmente vi dovete collegare su rai 1 sui canali rai dal telecomando fate con la freccetta in su vi apparirà questa 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 schermata fate vabbè ok ecco c'è da dire che dovete essere collegate a internet fatto questo a scusate che non sto sulla ok torniamo su facciamo freccetta sta caricando il contenuto andiamo su canali tv andiamo sopra e vediamo praticamente qua che ci sta dai tappa ai 4k in fondo eccolo qua dai 4k clicchiamo ok e vediamo che ci sta dai 4k ok spero di essere stato utile commento il video se hai delle domande iscriviti al mio canale youtube ciao